Buongiorno, Nadia Toffa al convegno del CICAP. Tra poco tocca a me. Sono qua con Massimo Polidoro e sono emozionatissima perché per me è un onore enorme. Ieri sera c'era Piero Angela, ragazzi, io sono cresciuta con la voce di Piero Angela, quindi salire sullo stesso palco è un'emozione folle. Parlerò di un caso particolarissimo che magari qualcuno di voi ha visto nelle inchieste in tv, di Gabriella Mereu, parlerò. Il caso di questa dottoressa cosiddetta, diciamo così, miracolosa. Quindi vediamo cosa dirà il pubblico perché ho portato anche dei video montati per fargli sentire la voce, no? Basta quello, tu dici. Beh, guarda. Cioè, più di quello non ci sono parole. Cioè, tu l'ascolti e dici, ma stiamo parlando di fantascienza o di medicina? Perché questa era una dottoressa. Sì, sì, sì. Era una dottoressa. Fortunatamente ora l'hanno radiata, non è più nell'album. Ovviamente non le potremo vietare di usare pendoli e, insomma, andare in giro a dire che cura i tumori coi fiori di bacca, però almeno non lo dirà da dottoressa, lo dirà da comune cittadina. Senti, i nostri ascoltatori qua ci stanno scrivendo e dicono ma sei quella delle Iene? Sono quella delle Iene. Senza la divisa, vedi? Non ho la giacca e la cravatta. E non sei solo più, non solo quella delle Iene adesso, giusto? Di cosa sarai adesso fra poco? Eh, partirò con una trasmissione l'undici ottobre. Conduco. Voi direte sono matti a dare la conduzione alla toffa. Invece si fidano di me, è incredibile. E quindi partiremo. Cercheremo di fare una cosa bella, seria, anche divertente. Speriamo vada bene. Guardateci, vi prego, guardateci. Soprattutto i bresciani, almeno quelli. Andrà benissimo. Ti stanno arrivando una quantità di cuoricini perché sai che qua significa molto apprezzamento. Grazie Nadia per essere qui. Grazie a voi dell'invito. Grazie. Ciao.